90, 80 addirittura eccoci qua siamo in viaggio c'è il maestro Lollapiana che sta guidando ieri sera il maestro Lollapiana ha vinto avrebbe potuto potenzialmente vincere 85 euro e ha riuscito a mangiarsi tutto ha vinto poi 40 vinto poi 40 e poi 40 20, quindi 20 20, 40 ma io gli ho pagato anche l'amaro perché non è che si è sbottonato il maestro Lollapiana c'è da dire che con 10 euro ha giocato per due ore e mezza è vero appunto veramente vabbè insomma un po' che stanchini tornando a questo viaggio qui c'era l'ex duty free siamo al confine con la Slovenia quindi proprio al confine hanno messo il casino va bene dai andiamo Gorizia o Trieste non ti dice niente sì di là non ti dice niente perché non parli perché non parli di qualcosa ah ma perché qua non trovo sì sì come va a stare da giusto destra 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 è questa destra no siamo ormai bloccati a Trieste di qua su questo su questa gincana segui Trieste maestro Lollapiana sta girando c'era scritto Trieste no 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 Trieste autostrada 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 venezia ok ok ci siamo occhio occhio che ci siamo quasi no vedi che vedo i dati qua sì sì ma lì devi girare perché ci sono due Trieste ci sono due Trieste avevo una grossa scoperta Triestini sarà il nome tutte le strade portano Trieste vabbè dai salutiamo gli amici di Facebook di Youtube maestro Sleppiano un saluto mentre non guardi la strada che poi è un brutto esempio ai giovani ciao così è tutto va bene asciutti ciao a tutti un po' foto ci si vede prossimamente Roberto vuoi salutare qualcuno? Ade va bene ave Cesare morituri te saluta ciao